Gli applausi di Valentina Vezzali e Cordiano Dagnoni in collegamento Skype rintoccano all'unisono con la soddisfazione di Matteo Ricci e di Mila della Dora che dal municipio pesarese sfoglia e sbandiera un progetto che dopo il lungo travaglio riceve finalmente l'ok per passare dalla carta ai cantieri. Pesaro avrà una nuova struttura sportiva che aspettava da anni, quella dedicata alle tante realtà ciclistiche cittadine che si erano legate al dito una promessa fatta al tempo dell'abbattimento del velodromo interno allo stadio Benelli. Esulta il ciclismo cittadino, esultano anche le società di pattinaggio perché quella che sorgerà in zona torraccia alle spalle di Vitri Frigo Arena e Rossini Center sarà di fatto una pista ciclorotellistica. Ovvero un circuito ciclistico di 2037 metri omologato per competizioni nazionali con al suo interno un anello di 600 metri dedicato al pattinaggio di velocità. Un impianto dalla storia tormentata, ricordato Ricci, atteso per anni fino all'incontro con l'ex regina della scherma Valentina Vezzali, oggi sottosegretario con delega allo sport alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Vezzali che si è mobilitata per il reperimento di risorse ad hoc. Un contributo decisivo come quello del presidente della Federazione Nazionale Ciclismo, Cordiano Dagnoni, che ha rafforzato la bontà della richiesta pesarese anche in termini sociali. Ecco allora 800.000 euro di finanziamenti statali che completeranno i 700.000 investiti dal comune. Esulta Mila della Dora, Pesaro città della bicicletta, avrà il suo impianto dedicato agli allenamenti delle due ruote. Come amministrazione siamo veramente soddisfatti di poter dare una risposta a quello che è un movimento sportivo importante, il movimento ciclistico. Abbiamo tanti ciclisti che sono in strada e quindi volevamo dare un impianto che permettesse anche di allenarsi in sicurezza, ma anche un impianto che desse una risposta all'attività di base. Abbiamo tanti ragazzi appassionati, tanti giovani ciclisti che vanno ad allenarsi altrove. Ecco, vogliamo dare una risposta a loro, vogliamo che il movimento ciclistico possa ripartire nella nostra città, quindi dando un impianto che è veramente un impianto, un'eccellenza a livello nazionale. La pista collocata fra via Gagarin e via Grande Torino attende ora solo l'approvazione definitiva per la gara di inizio lavori che si conta di far partire in primavera e completare nel giro di sette mesi. L'impianto che permetterà l'uso, come ha detto anche l'assessore, anche a livello agonistico potrà essere omologato, avrà una pavimentazione in asfalto, uno strato di base in binder, successivamente un tappeto sempre in binder. Con delle fasce di sicurezza laterali e lungo tutto il percorso sono realizzate anche delle piazzole che potranno ospitare delle tribune, degli spazi per giudici e commissari di gara.